Sono Adriano Mancini, professore presso l'Università Politecnica delle Marche, in particolare ricercatore a tempo determinato e mi occupo negli ultimi anni di intelligenza artificiale applicata al mondo dell'agricoltura di precisione. Oggi infatti più che mai gli agricoltori hanno la necessità di sfruttare le tecnologie per essere in grado di non solo risparmiare soldi ma anche di avere un prodotto in genere più sostenibile perché l'agricoltura di precisione oggi può beneficiare dei droni e delle tecnologie anche installabili a bordo del trattore per cercare di ridurre quanto più possibile l'eccesso di prodotto ad esempio che viene applicato durante un'operazione. Oggi i droni e anche i satelliti rappresentano una interessante tecnologia che può essere applicata fin da oggi, fin da subito, nel mondo dell'agricoltura. Infatti rispetto a un po' di anni fa i costi si sono notevolmente ridotti e questo garantisce la possibilità anche per piccoli agricoltori di acquistare e di venire in possesso di questa tecnologia. Se uno non ha un budget a sufficienza ovviamente si può ricorrere a personale esperto, a delle società di servizi che possono fare sorvoli, fare voli specifici su una determinata area quindi senza l'onere di dover acquistare un drone e senza l'onere anche di sostenere il corso per avere la qualifica di operatore APR così come viene oggi chiamata. Nel mondo dell'agricoltura comunque a parte le problematiche amministrative, le problematiche burocratiche quello che è importante è capire che il drone è una parte dell'intero flusso di lavoro perché il drone consente di avere una visione del campo, una visione dall'alto del campo quindi anche su grandi estensioni, quindi su centinaia di ettari, consente di monitorare, di identificare aree che hanno delle problematiche. Queste problematiche oggi possono essere molteplici, ad esempio l'identificazione spesso del nitrogen stress, quindi lo stress d'azoto, che rappresenta un aspetto critico per garantire una uniformità del prodotto finale in termini di resa e in alcuni casi anche di dimensioni. Quindi il drone quello che oggi può fare è quello di acquisire in poco tempo grandi superfici ma utilizzando delle tecnologie di misurazione fortemente innovative, tecnologie che permettono di vedere in una porzione dello spettro luminoso che il nostro occhio umano non è in grado di vedere. Questo spettro spesso viene chiamato vicino infrarosso, è quello che va oltre i 680-700 nanometri e in questi casi i sensori possono vedere quello che l'occhio non vede. E in questa fase è importante capire che anche i produttori di camere hanno messo sul mercato sistemi che sono molto economici, dove molto economico si intende circa qualche migliaio di euro che rispetto a molti anni fa è una riduzione significativa del costo e sono sensori molto piccoli, molto leggeri che possono essere, ripeto, installati a bordo di droni che possono essere o ad ala rotante come multirotore oppure ad ala fissa quindi con ali fisse che in genere hanno una prestazione superiore in termini di durata perché un aspetto critico che bisogna considerare è che questi oggetti possono volare per un tempo limitato. Per i multirotori il volo può durare tra 10-15 minuti in funzione delle condizioni operative mentre un drone ala fissa può coprire anche centinaia di ettari per una durata che si attesta intorno ai 45 minuti massimo un'ora. Quello che si può fare è raccogliere questa grande quantità di dati che necessariamente devono poi essere elaborati e fortunatamente oggi i software consentono di automatizzare questa procedura quindi l'operatore quello che fa una volta che ha effettuato il volo scarica il dato e dal dato è possibile mettere in evidenza quelle che sono le aree soggette delle problematiche quindi la risposta del drone è in sostanza identificare aree che poi verranno prese in considerazione dell'agronomo per generare in genere delle mappe di prescrizione. Le mappe di prescrizione anche in questo caso possono essere generate in modo automatico o in modo manuale sulla base dell'esperienza dell'agronomo che ha un ruolo fondamentale perché tengo a sottolineare che oggi il ruolo dell'agronomo è più che mai importante la tecnologia è di supporto non può sostituire quello che l'agronomo oggi fa quindi questo è un aspetto fortemente caratterizzante. Comunque sia le immagini del drone e ripeto anche del satellite fungono da strumento di supporto alle decisioni per l'agronomo che mette insieme la conoscenza agronomica del terreno quindi pluriannale la conoscenza anche dall'alto grazie alle immagini del drone che identifica le zone problematiche e provvede a generare una mappa di prescrizione. La mappa di prescrizione può essere di supporto nel momento in cui grazie ad esempio alle ultime tecnologie che sono installabili a bordo di un trattore è possibile prendere questa mappa di prescrizione che a tutti gli effetti è un file che verrà caricato sul trattore sulla console del trattore l'operatore anche supportato dal cosiddetto auto steering quindi dei sistemi di guida autonoma andrà sul campo e sulla base dell'operazione che dovrà fare applicherà la quantità di prodotto che l'agronomo ha determinato nella fase di creazione della mappa di prescrizione. Tutto questo ha un notevole impatto non solo sulla riduzione dei costi perché effettivamente diciamo i sistemi a guida automatica e i sistemi in genere di supporto le decisioni che permettono di applicare la giusta quantità di prodotto in funzione della necessità reale del terreno o della cottura è importante sottolineare che questo porta sia a un beneficio di costo quindi una riduzione dei costi ma anche a una equalizzazione della produzione finale quindi una maggiore uniformità che spesso è un aspetto fondamentale unitamente al fatto che dal punto di vista ambientale si va ad applicare un prodotto nella giusta quantità quindi senza avere problemi di sovradosaggio nelle aree che ad esempio non hanno necessità di una forte quantità di prodotto quindi in sostanza il drone oggi è uno strumento a supporto delle decisioni di un agronomo che sulla base di queste informazioni e di tutta la conoscenza agronomica quindi anche del terreno e quant'altro genera una mappa di prescrizione che grazie ripeto ai sistemi disponibili a bordo dei trattori più moderni oggi è possibile andare in campo e applicare con cosiddetto rato variabile quindi quello che viene chiamato vrt quindi trattamenti a rato variabile queste tecnologie fin da oggi sono disponibili i costi fortunatamente come dicevo prima si sono ridotti di molto e le tecnologie dei droni non faranno nient'altro che dare sempre più informazioni che l'agronomo considererà per migliorare la qualità del prodotto e anche la sostenibilità ambientale e anche la sostenibilità ambientale